Siamo stati coinvolti come soprintendenza e come rappresentante qui dall'Agenzia AES per coordinare il tavolo tecnico della mattina che si è svolto oggi relativo proprio al rapporto tra energia e restauro, quindi al discorso del come l'efficienza energetica entra nel settore anche dei beni culturali e quindi del restauro di architetture storiche e preesistenti. Il tavolo ha svolto una serie di argomenti cercando di approfondirli con diversi tecnici che vengono sia dal mondo universitario che dalla professione, quindi ha interessato un inquadramento di tipo normativo su come l'energia, il retrofit energetico possa entrare nel campo dei beni culturali, quindi quali sono i limiti e le condizioni che ci sono rispetto alla preesistenza e poi ha cominciato ad approfondire anche una serie di casistiche, di problematiche nell'intervento di retrofit, quindi con esempi e semplificazioni sia da un punto di vista teoretico che metodologico su come la trasformazione di un materiale storico possa essere compatibile o meno con la necessità della conservazione della preesistenza. Poi sono affrontate una serie di tematiche legate proprio al quadro normativo ai criteri per l'efficientamento anche a livello per esempio di stime urbanistiche del miglioramento di interi quartieri, di aggregati storici per capire come ci si può confortare e come soprattutto le amministrazioni possono veicolare gli interventi nella direzione migliore possibile. Poi una serie di casistiche specifiche hanno permesso di approfondire per esempio come alcuni protocolli, di quali per esempio quello di Storical Building di GBC, che è un protocollo internazionale che è stato però creato in Italia dedicato specificatamente alla sostenibilità degli edifici storici, possa essere applicato in contesti di preesistenza storiche e attraverso il caso del Maestri Ferrara che è stato il primo iscritto nella lista del GBC Italia. E poi abbiamo anche affrontato la tematica dei rapporti per esempio di come si può modellare la sostenibilità di un edificio storico, quindi il progetto architettonico su resistente attraverso anche l'uso del BIM che ha una frontiera assolutamente attuale e quindi come questa possa essere estremamente efficace per analizzare il problema del retrofit.